Questa è la lettura 8539 del maestro spirituale coreano Jin Jong un metodo per relazionarsi con gli altri privo di malintesi come posso mantenere una buona relazione con le persone senza creare malintesi prima di tutto dovresti conoscere a fondo la persona che ti sta di fronte senza conoscere quella persona non sarebbe possibile avere una buona relazione secondariamente ci si dovrebbe chiedere perché questa persona si trova proprio di fronte a me la natura ti ha posto di fronte una persona con cui poterti relazionare se c'è significa che si trova in quel posto proprio per te indipendentemente dalla ragione per cui la relazione esista ciò che è importante sapere è chi ricopre il ruolo di comando e chi invece deve eseguire per avere una buona relazione bisogna conoscere bene questa distinzione si tratta di una distinzione fondamentale che si trova in qualsiasi ambiente della nostra società se io fossi gab chi ha maggiore energia la persona più esperta come mi dovrei comportare e se fossi ul chi ha minore energia la persona meno esperta come mi dovrei comportare la persona ul per crescere deve acquisire energia dalla persona gab solo rispettando queste modalità si potrebbe avere una buona relazione dopo un tale incontro sappi che non accadrà mai più di incontrare una persona simile avente cioè le stesse caratteristiche una relazione gab ul esiste nello stesso momento in cui si incontra una persona con cui relazionarsi anche sul posto di lavoro esiste questa situazione relazionale anche nella società esiste questo genere di relazione non si tratta di una condizione rigida ma è soggetta a modifiche in qualsiasi momento lo stato della relazione può cambiare generalmente una persona ul acquisiste energia dalla persona gab per poter crescere e con riconoscenza occorre che mantenga laboriosamente la sua posizione quindi la persona ul incontra la persona gab per la sua crescita in quanto alla persona gab questi ha solo il compito di aiutare la persona ul e se lo facesse in maniera coerente riceverebbe dalla natura una ricompensa 10 volte maggiore per un guadagno simile io personalmente sarei sempre pronto a farlo vi posso garantire che la natura rimunererà un tale impegno con una ricompensa 10 volte maggiore e non solo anche la persona ul ascoltando con attenzione otterrà in cambio una crescita personale ben 10 volte superiore se una persona gab anziché aiutare la persona ul con cui è in relazione la disprezzasse e in questo modo utilizzasse la propria energia in maniera scorretta otterrebbe solamente che questa la sua energia gli venisse tolta la natura ci fornisce i talenti il denaro le situazioni e anche le persone con cui potersi relazionare se vi avesse dato la forza è perché la possiate usare nel modo giusto ma se ciò non dovesse accadere vi verrebbe semplicemente tolta prendiamo in considerazione la più classica delle relazioni quella tra i padri e i figli in tali relazioni i genitori sono le persone gab mentre i figli di norma sono le persone ul ma attenzione fino a un certo punto sono i genitori a dover benificare i figli e non il contrario questo principio sta alla base della relazione i figli però non dovrebbero mai mancare di rispetto ai propri genitori ciò che ricevono devono riceverlo con gratitudine e utilizzarlo per la loro crescita se qualche genitore pensasse di essere migliore dei propri figli oltre a pensare in modo scorretto questo non gli permetterebbe di essere persona gab pensare di essere migliori degli altri conduce alla rovina della propria vita una persona intelligente non può non provare del rispetto per gli altri si potrebbe crescere in modo esponenziale se si acquisisse energia dagli altri questo vuol dire essere saggi questo vuol dire vivere saggiamente la propria vita se desideraste entrare in una buona relazione con le vostre controparti per prima cosa dovreste chiedervi quale sia il vostro ruolo all'interno delle relazioni e poi cercare di astenervi dal calpestare il terreno altrui se imparaste a camminare insieme nel modo più coerente potreste vivere insieme una vita meravigliosa alimentando reciprocamente la vostra forza crescereste rapidamente e potreste mantenere una buona relazione grazie a tutti